Nuovi e vecchi problemi per le discipline dell'atletica riguardo l'impianto dello stadio Grezzari. Il presidente provinciale della FIDA, il Giacomo Biviano, oggi ha fatto il punto riguardo le difficoltà in cui versano in molti iscritti, preparatori, allenatori, problematiche emerse pochi giorni fa durante un incontro con gli uffici comunali dello sport e dei lavori pubblici alla presenza dell'assessore Lodi. Gli spunti, per così dire, sono molteplici. Cominciamo con la pista, il Tartan, che in questo momento ha una scadenza dell'omologazione a novembre 2023. In questo momento ci hanno detto che è messa nel piano triennale la spesa, devono solo fare una variazione. Nel bilancio mi auguro, con tutto che venga fatto a dicembre, in maniera tale che la progettazione comincia a settembre, quindi a gennaio o febbraio cominciare con la gara d'appalto e quindi presumibilmente aprile, maggio, giugno incominciare i lavori per avere a settembre e ottobre al massimo il Grezzar di nuovo con una pista nuova. Anche gli accessi all'impianto e alle tribune, secondo Fidal, necessitano di una definitiva riqualificazione. Purtroppo nell'organizzazione di manifestazioni gli accessi dalla tribuna, del pubblico per arrivare sui gradoni, passano per delle zone dove in questo momento stanno facendo dei lavori di ripristino. C'è la presenza ancora del guano di Colombi e quindi di conseguenza, però da questo punto di vista mi è stato detto e ho visto anch'io con i miei occhi che si stanno attivando per fare dei lavori per messi in sicurezza. Confermato inoltre il diniego all'utilizzo del manto erboso che è a uso esclusivo del calcio. Purtroppo io ho fatto l'ennesima richiesta agli uffici e proprio all'incontro mi è stato confermato che in questo momento l'uso del prato è a solo esclusivamente del calcio. Quindi l'atletica, a parte i lanci che sono ovviamente negati, neanche le attività giniche con scarpe normalissime. E quindi non sappiamo neanche a settembre, specialmente i corsi dell'avviamentale atletica dei più piccoli, dove poterli sistemare per fare attività in sicurezza.